Sì, un'ora e mezza. E' un'ora di seguire i presentatori che fanno da metronomo e ognuno fa la sua parte e la facciamo bene, d'accordo? Dopo ci rilassiamo un attimo e la chiudiamo qui col sorriso e divertendoci, siamo d'accordo? Ci facciamo? Ci facciamo un applauso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Verificato. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quando andarci dentro e potremmi dire qua e qua, in giro di questo campo siamo noi, è una vita specializzata, quando tratta che dai, e noi riprendiamo, non la intuaremo. Dovete sapere che questi ragazzi hanno appena pubblicato la loro prima canzone, The Word Isn't a Word, è disponibile già su Spotify, sul canale Spotify di Radio Matta, che è la radio delle scuole Mattarella. Dovete sapere che questi ragazzi hanno appena pubblicato la loro prima canzone, Grazie a tutti! 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 Non ci sono ladri se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è. Vedete il visual? Grazie, il visual fa questo. E poi mischio tutte queste cose insieme per sentirmi libero, come siete liberi voi in questa scuola. Sono due e quattro, due, bravi, e liceo musicale, siete parti, bravi, uno, due, quattro, due, bravissimi, sotto. Mi sono affacciato, ho guardato giù, e quello che c'era non ci stava più. Ma ricomento da costa di plastica, da robinuzuale, che ancora sa beva di sale, ma non era più male. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.